musica 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 ragazzi a tutti i ragazzi con Ritor Black e oggi siamo in questo nuovo video e qui nel Minecraft su Battle Games siamo sulla mappa Lascan Village di Bad Lion e oggi non sono un fake ho battato pure del fake ti mostrerò, te lo mostrerò che io non sono un fake guarda guarda guarda, ciao non sono un fake prendi la chest, adesso allora, vi do dire una cosa veloce, essendo passato Windows 10 ho dovuto cambiare anche il programma di registrazione perchè Action non me lo voleva quindi adesso sto facendo delle prove più che altro anche dal punto di vista dell'audio, dato che il game che avevo registrato prima aveva l'audio che era un bordello alto perchè come sapete io lo portavo sempre alto però Action metteva in primis la voce, quindi si sentiva tutto ben equiparato, mentre con Fraps questo non accade, e allora ho dovuto fare delle prove, adesso il centurio dovrebbe andare tutto tutto a posto quindi spero che comunque si senta bene perchè sennò sarebbe un bel problema e la gente è subito iniziale, già stanno tutti qua c'estro, tutto mio addio gioco frenetico mi piace, mi piace, allora oggi volevo inizialmente andarvi a ringraziare per i like, per il supporto che sta ricevendo il montage perchè ne sono veramente felice dato che quel montage mi piace un casino a me, anche se l'avrei potuto fare meglio ciao bro, ciao c'è solo un'accetta vedi vabbè poi controllo cosa potrebbe dopo, dopo mi butto ora non mi voglio buttare, però è stata una kill veramente figa, è tipo imploso nel peggiore di mori, e questo mantellino, ragazzi questo mantellino è bellissimo, se me lo ricordo aggiorno la descrizione e ce lo metto la perchè santa miseria me l'ha passato questo ragazzo che lo ringrazio tanto ed è troppo 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 epico che mi mantellino, ok non mi serve niente, sono troppo energizzante, sono appena tornato da scuola, mai stato così energico, e ne sono felice e spero che comunque questo game vada bene una cosa importante che volevo andare a dire, sarebbe il topic principale alla fine di oggi, è con un full pelle, il full pelle ce lo andiamo a fare tranquillamente, è il fatto dei video, perchè io ho sempre portato video che alla fine a voi piacevano, dato che per nuovi iscritti che non lo sanno, è stato l'ho richiesto, dai ok perfetto, sta anche molto easy oh, oh si mi piace, certo potevi pure avere qualcosa un attimo un po' più utile che mi potesse servire a me però, tipo uno stick però questo non è un problema adesso ehm, perfetto posso farmi l'ingotto in ferro che sarebbe un acciarino ok, perfetto, mi sbaglio lì c'è un chunk bugato, ora quello non ci vale perchè il chunk bugato poi, lì per chi non lo sapesse, essendo un chunk bugato laggi un casino e io non vorrei laggare comunque, stavo dicendo della programmazione dei video che ho sempre fatto video che mi avevate consigliato voi, perchè voi mi avevate detto per il tempo fa, tutti gli iscritti non lo sanno gli iscritti vecchi, vecchi tra virgolette mi avevano detto che troppa gente portava survival games allora io dovevo variare, perchè almeno qualcuno che variava gli sarebbe piaciuto, dato che si stavano rompendo le survival games, e questa cosa alla fine si è rivelata falsa perchè se vedete i video dei survival games che portano gli altri vengono supportati a bomba mentre i video che io andavo a variare la maggior parte delle persone non se li inculava, magari questo non era il problema mio alla fine, perchè potrei, cioè nel senso, non è il problema vostro, perchè avrei potuto sbagliare qualcosa però ugualmente alla fine mi sono detto chi me lo fa fare e la maggior parte di voi alla fine penso saranno d'accordo con me, io voglio portare quello che porto qua ve lo dico in modo molto veloce perchè non ci voglio perdere dopo tempo, porto quello che voglio per chi mi volesse seguire, mi può seguire tranquillamente, se no è normale che non posso piacere a tutti però io voglio partire con l'idea che chi viene sul mio canale guarda cose che io propongo e spero che gli piacciano ora, proviamo ad andare da quello perchè almeno riusciamo a velocizzare il gioco mi sono immaginato di voler peggio persone sembrare il buon game a quanto tranquillo che sicuramente inizierà ad essere frenetico dopo però io sono super energico ho anche cambiato diverse cose tipo l'intro perchè adesso, io prima avevo sempre tutto blu banner blu, intro blu, tutte ste robe blu è venuta come in esplosione mi sono svegliato la mattina vi giuro, mi sono svegliato la mattina e mi è venuta come esplosione la voglia del colore rosso infatti adesso ho cambiato l'intro rosso gli ho messo qualche modifica di mio l'intro originale era di revolution l'aveva fatta lui poi, questo se ne accorto un genio lui c'ha i pantaloni non lo so però, si, hai i pantaloni belli ciao è un fan? sei un little fan? ok, sei un piccolo fan, va bene allora, buono mi sono scordato cosa stavo dicendo stavo dicendo, stavo dicendo che ok, il rosso quindi adesso ho anche cambiato le copertine perchè le copertine erano un po' che ce l'avevo quella allora ho detto cambiamole ringrazio il render che me l'ha fatto Yeti e niente, poi ho le copertine il resto l'ho fatto io, comunque a me piace poi datemi una vostra idea e inoltre poi adesso magari poi andremo a cambiare anche il banner tu che stai facendo quindi niente di che e inoltre poi sono andato con un team perfetto ehi, ehi, bro, bro bro, 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 bro team, team, team oh merda le, 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 le bro, bro bro di qua ciao, ci stanno i peggio persone ok, questo non mi piace questo non mi piace questo non mi piace allora questo è crashato, è crashato, è crashato, è crashato ma che cazzo fai? mi inculi troppo, bro oh oh ok, prendi tutto quello che ti amo questi sono veramente fan che io dico cazzo, meno male che esisti persona siamo rimasti insieme all'altro che gli è appena morto l'amico perché non si è accorto che è crashato perfetto persone che non si accorgono che è crashato i loro amici comunque stavo dicendo, ho messo anche la posizione del microfono io, per chi non lo sapesse ho un'asta sto cazzo, uno di uno se non stavi col tuo amichetto ho un'asta e in quest'asta ci ho messo eh, lui è il mio amico si, ok nell'asta ci ho messo il microfono, no? che c'è una TR2500 qualcosa del genere mi ricordo già più il nome e cosa pure io sto recando per l'ho creato questa non è una scusa ok c'ha la spara in diamante cosa vuoi da me? stavi in team? eh, non è che vai a tua discrezione extreme oh mio dio mamma mia, oggi mi sento super energico non mi stilare la kill che oggi oggi è tutto mio oggi è tutto mio che cazzo hai? oh, sei scemo perchè sta roba? cosa fa? è partito di brocca che cazzo? è fepe ha e me lo dici così go go ma questo è partito di brocca tu sei un fan partito di brocca però va bene io punto lo stesso a lui perchè spero che comunque il fan non mi clean up però lui non sa voi se non vi rispondo in chat perchè sto arreccando quindi adesso che lo sapete tu devi essere il primo io ti spiegherò mi lasci in pace bro sto arreccando sei stronzo guarda se ci muoio mi mandi a fanculo la registrazione eh sei stato bravo fino ad adesso perchè devi rovinarti la tua reputazione sei stupido sei stupido sei tanto stupido ragazzi sei tanto stupido guarda guarda quanto sto felice guarda 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 io gli scrivo rec ecco ecco ah 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 omottini sei 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 sono infame di merda oh mio dio oh oh ho metto re batter black quindi spero che questo lui sia piaciuto com'è sta finendo di dire ho messo in pratica il microfono a testa in giù fighissimo troppo tipo tattica troppo persona forte quindi spero che questo lui sia piaciuto se così fosse vi vedete lasciarla connected by bella Grazie.